Il partito di Forza Italia ha sicuramente diverse sensibilità come giusto che sia, ma è evidente che alla fine discuterà al proprio interno, si confronterà, a volte anche con posizioni diametralmente opposte, ma alla fine se è un grande partito e Forza Italia lo è, deve sapere trovare la giusta sintesi, perché Forza Italia è fondamentale per il centro-destra, non ci possiamo consentire di dividerci e quindi anzi dobbiamo diventare la bussola, la cerniera di un centro-destra che deve ritornare a essere protagonista nella nostra provincia. Risultato straordinario per dire che c'è un partito, un partito vivo, un partito che in un momento storico, economico già molto complicato ha compreso che comunque bisogna ritornare alla politica, alla politica quella vera, alla politica quella con la P maiuscola. Davvero oggi è stata una giornata straordinaria, emozionante, ho visto persone che si sono emozionate, che hanno ricordato il loro passato, la loro storicità, ma abbiamo avuto la fortuna di avere un leader che è Silvio Berlusconi, che ha creato il centro-destra d'Italia, è stato Berlusconi a mettere insieme questa proposta politica. Quindi noi abbiamo il dovere, quasi morale, prima che politico, di portare avanti quella filosofia di vita, quella visione del mondo, perché ci ha lasciato un'eredità che non può essere assolutamente utilizzata per migliorare la società e cercare di lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato.